Oggi vediamo come fare l'effetto Pac-Man Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Dopo la live delle 12 ore vi dico la verità ragazzi non vedo l'ora di farlo un'altra E mi sa che appena raggiungiamo i 6.000 o 7.000 iscritti mi sa che decido di farne un'altra Ma quale gioco faremo? Forse faremo proprio un Pac-Man Molti di voi pensano che Pac-Man sia stato veramente molto semplice da sviluppare Ma ha delle meccaniche molto interessanti che se replicate con Construct ci permettono di imparare nuove cose interessanti Oggi vedremo come fare l'effetto Pac-Man Un effetto veramente molto facile da fare sia se utilizziamo Construct che non Vi farò vedere quindi in questo brevissimo video come utilizzare il Behaviour Wrap per fare un effetto Pac-Man all'interno dei nostri videogiochi Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito questa cosa qui Eccoci qui all'interno di Construct Mi raccomando fatemi sapere la vostra se effettivamente vi piacerebbe una live incentrata su come creare appunto un Pac-Man basato su una griglia, su una tilemap E in più possiamo anche fare i nemici che ci inseguono Fatemi sapere così in caso guardo un po' e decidiamo un giorno per fare questa live Allora l'effetto Pac-Man su Construct è veramente molto semplice Infatti una cosa che noi potremmo fare a livello di codici Io qui per velocizzare il processo non ho fatto neanche le collisioni ovviamente Perché non avrebbe senso dedicare un tutorial di 10 minuti per una cosa di questo genere Ma appunto se volessimo fare l'effetto Pac-Man cosa dovremmo fare? Dovremmo fare appunto il personaggio quando esce a sinistra dello schermo Praticamente rivai a settare la X dall'altra parte E' veramente molto semplice Infatti se noi andiamo in Debug Mode Quello che possiamo vedere è che abbiamo appunto il nostro personaggio a giro Nell'asse delle X 49 Possiamo fare che appena arriva a meno 12 Quello che succede va a spawnare dall'altro lato Rivolto verso sinistra e quindi va spawnato nell'asse 436 Ed è veramente molto semplice fare una cosa di queste Ma con Construct è ancora più semplice Infatti ragazzi ci basterà semplicemente cliccare sull'oggetto Che noi vogliamo appunto far passare tra un mordo e un altro E guardate un po' aggiungere il Behavior Wrap Infatti il Behavior Wrap come si può vedere dall'immagine Quello che fa è proprio questo Ci basta semplicemente aggiungerlo Construct ci dice aspetta però che tipo di Wrap vuoi fare Vuoi fare un Wrap basato sul Layout o sulla Viewport Assolutamente sul Layout Perché vi ricordo che il Layout è la dimensione del progetto Non dello schermo Mentre il Viewport è proprio quella dello schermo Clicchiamo su Play Quindi lasciamo Layout E guardate un po' quello che succede Abbiamo fatto in pochissimi secondi Quello che effettivamente da codice Avremmo fatto in più tempo Però comunque il risultato è fantastico Possiamo anche fare la stessa cosa dal basso verso l'alto E come potete vedere funziona benissimo E' anche vero che questa cosa a livello di codice E' molto semplice da fare come vi ho fatto vedere Quindi vedete voi se conviene fare o da codice oppure no Ovviamente il Behavior va a semplificare questo processo Ma come avete visto ci siamo stati soltanto pochissimi secondi Per fare l'effetto Pac-Man sui nostri videogiochi con Ghost Truck Quindi ragazzi questo era un semplice tutorial su Behavior Wrap Per fare l'effetto Pac-Man all'interno dei nostri videogiochi Ovviamente non siamo entrati troppo nel dettaglio con l'esempio Perché non vedo l'ora di fare proprio un Pac-Man completo insieme a voi Fatemi sapere qui sotto con un commento Se vi piacerebbe una live o una nuova serie Appunto su come fare un gioco come questo qui Ma effettivamente vi piacerebbe farlo in live Quindi ragazzi aspetto il vostro parere qui sotto Lasciate anche un like e un commento in generale Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Behavior Quindi ragazzi se volete rimanere sempre aggiornati con il mondo dello sviluppo di videogiochi Vi basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti Io vi auguro un buon sviluppo di videogiochi E ci vediamo domani Ciao Ciao